E' stato presentato ieri, nella sede dell'Associazione Stampa Romana, il ritorno in edicola di Il Romanista, l'unico quotidiano cartaceo dedicato esclusivamente ad una squadra di calcio. Il Romanista, che uscì per la prima volta nel settembre del 2004, aveva cessato le pubblicazioni dopo dieci anni, nell'agosto del 2014. Adesso, con una struttura societaria e giornalistica completamente rinnovata, tornerà in edicola e il primo nuovo numero sarà pubblicato domani, sotto la nuova direzione di Tonnino Cagnucci. Il giornale avrà 32 pagine e al costo di un euro si dedicherà ovviamente alla Roma, ai suoi tifosi, ma non mancherà la parte della cronaca cittadina, con risvolti, retroscena, fatti e appuntamenti legati alla capitale. Un quotidiano per giunta sul calcio, per giunta su una squadra soltanto, è l'unico quotidiano del mondo dedicato ad una squadra di calcio, insomma è un fatto che dire in controtendenza è dire anche poco. Significa, per chi è innamorato della carta stampata e anche di un certo modo di raccontare le cose, significa ovviamente tanto. Cosa si dovranno aspettare i lettori, quindi i tifosi della Roma, nel loro anche vivere quotidianamente durante tutta la settimana l'essere romanisti e come appunto li verrà raccontata la Roma? Raccontata dai romanisti, quindi si dovranno aspettare loro stessi, nel senso c'è un sentimento generalizzato del romanismo, dell'essere romanisti, che con tutte le sue sfumature, con tutte le sue contraddizioni, con tutte le diverse pese di posizione, che in verità in questo periodo si è veramente variegato come situazione, però c'è un sentire comune che è quello che potrebbe essere tifosi da Roma e quello lo trovano sicuro.